Sul caso di Samar Abbas, dal Pakistan arriva il via liberale estradizione in Italia del padre della 18enne, uccisa secondo i magistrati dai parenti a Novellara per essersi opposta a un matrimonio combinato. Il magistrato della corte distrettuale di Islamabad ha rispinto l'ulteriore istanza di rilascio su cauzione della difesa. Manca però ancora il parere del governo dal momento che non ci sono ancora accordi bilaterali tra Italia e Pakistan. Shabbar Abbas è imputato nel processo in corso a Reggio Emilia davanti alla corte d'assise per l'omicidio della figlia, insieme alla moglie, ancora la titante, allo zia e i due cugini della ragazza. Grazie per la visione!